dell'ospitalità e della collaborazione che abbiamo provato in Regno di Guia. Val Group è un'azienda che ha come mission quello di essere partner per l'innovazione delle imprese. Ecco perché per noi è fondamentale realizzare sempre e sviluppare le nostre competenze, il nostro capitale umano e le competenze che riusciamo a sviluppare e a portare sui nostri clienti come progetti innovativi in continuazione. Proprio per questo cercavamo l'opportunità di trovare un ambiente che fosse sia sufficientemente skillato da un punto di vista tecnologico, e qui abbiamo trovato una risposta importante dell'università, del polo universitario, sia un luogo dove poter veramente crescere i nostri dipendenti perché noi puntiamo sempre su un forte investimento che facciamo sulle nostre risorse umane, ci teniamo molto che le risorse umane non solo si trovino bene all'interno del nostro gruppo, ma soprattutto che ci vogliano restare, che abbiano voglia di crescere e di continuare a imparare. E quindi Genova ci è sembrato un territorio particolarmente interessante, Genova e in generale sono qua la regione Liguria. Questo ci ha portato a rafforzare una presenza che già ci vedeva con tre sedi all'interno della Liguria, due a Genova, una via 20 settembre, una via Val di Sarno e l'altra alla Spezia. E cercare ulteriormente di svilupparle investendo ancora di più sui giovani e sulle nuove competenze. Mi fa piacere che oggi siano infatti qui presenti anche quattro ragazzi che abbiamo inserito negli ultimi sei mesi, due nel 2017 e due a fine del 2016 perché veramente ci vediamo e vogliamo investire. Prima parlavamo della difficoltà di far incrociare la domanda con l'offerta di lavoro. Pensiamo che sviluppare, lavorare sulle nuove tecnologie in regione Liguria possa portare a nuove opportunità non solo per la vallupo ma per tutto il territorio perché comunque anche con il piano dell'industria 4.0 vediamo che tutti i tipi di lavoro, tutte le aziende stanno cambiando il proprio business e quindi Val Group vuole essere partner per le aziende per questa trasformazione del business. Val Group è ora un gruppo che a livello italiano è leader nel settore della PMI con un fatturato di oltre 220 milioni di euro nel 2016 in crescita del 18% rispetto al 2012 e un numero di dipendenti superiore alle 800 unità. Abbiamo circa 23 filiali in tutto il territorio italiano e in particolare nelle nostre sedi di Genova vogliamo sviluppare ancora di più quelle che sono tutte le tecnologie innovative ecco perché abbiamo creato questo, stiamo creando insomma insomma insieme a voi questo Technology Lab particolarmente orientato sia sulle tecnologie cloud per le quali abbiamo un data center di eccellenza business data center di eccellenza a Empoli ma fortemente supportato anche dal team di Genova e investire molto anche sulla data platform di Microsoft oltre ad altre tecnologie innovative come il cognitive analytics e l'internet delle cose, quindi tutti i temi molto caldi e molto attinenti al nuovo piano di industria 4.0 quindi niente, io non posso peraltro che ringraziare la Giunta, ringraziare la Regione per questa disponibilità che abbiamo trovato e che speriamo sia l'inizio, insomma il primo passo verso un percorso